Per la prima semifinale del Fornant Roadman ai 77 kg accogliamo all'angolo blu quest'atleta 23 anni, ha un record di 3 vittorie, 0 sconfitte e 0 pareggi, viene da Lecce per lo Shark Team Entra Jacopo Madalo Grazie a tutti Grazie a tutti. Ha un record di due vittorie, due sconfitte e zero fareggi. Vieni dall'Aquila per il Fulme FBA entra Emanuele Scimia! Grazie. 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 si gioca inizia col cavo via 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 sinistro sinistro passa il calcio vai calcio attenzione vai ancora via non c'è il numero Vieni la testa, vieni la testa e passa il braccio di destra, passa il braccio di destra, attenzione, appena poi, dietro la gamba destra, dietro la gamba destra, dietro la gamba destra, dietro la gamba destra, all'interno devi fare quel lavoro, all'interno. Vieni la testa, vieni la gamba. Vieni la gamba, porta la gamba, porta la gamba. Emano il forte a passare le gambe, non ci vuoi andare da spettacolo, non ci vuoi andare. Passa il vento Infira l'altro incino piano 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 Non mi fa passare il braccio Non mi fa passare il braccio Non mi fa passare Gira, vieni 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 Sposta la gamba 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 Sposta Sposta Fai gamba Fai da come Adesso hai fatto un lavoro di braccia, hai visto il testo. Senti quella volta, da soltanto a postura. E' altro scaro in postura, tieni a pizzerzi. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Gli cisti, gli cisti! Gli cisti! Gli cisti! Vai, vai! Grazie a tutti! Buen pass Заerdadino! Chiunas come va! Au, Oh fai! Buon passato! Vor 짝 del edits! Puede beneficio di chiunest mano il città! Rick! Emanuele, complimenti per la vittoria, innanzitutto sei il primo finalista dei 77 kg, raccontaci, dici due parole Marco Nino Dippa, che è stato sempre, e Giuliano Di Paolo per l'Istituto Sovalesca per il giudizio, grazie Perfetto, un applauso!